Ciao a tutti, oggi prepareremo la tisana depurativa. Il tempo di preparazione della ricetta è di 20 minuti circa. Gli ingredienti sono fiori di camomilla, semi di finocchio, zenzero fresco, chiodi di garofano, la scorza di un'arancia, radice di liquirizia, cannella e acqua. Andiamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale l'acqua, i semi di finocchio, la radice di liquirizia, lo zenzero fresco, la scorza d'arancia, la cannella in polvere, gli iodi di garofano e i fiori di camomilla. Ed azionare il bimbi per 10 minuti, 100 gradi, velocità 2. Lasciare in infusione per 10 minuti, trascorse il tempo, la tisana è pronta, filtrare e servire. Tisana depurativa. Grazie e alla prossima ricetta. Grazie. 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 Grazie.